Credo che la giornata di oggi sia stata una giornata bellissima perché mettere in evidenza questo disagio, questo profondo disagio e provare anche a trovare dei cammini di risoluzione, dei cammini che possano essere di aiuto mi è sembrata una cosa molto bella. Io faccio il parroco per cui spesso e volentieri ascolto, mi trovo dentro situazioni in cui c'è questo disagio, questo bisogno anche di aiuto spesso e volentieri. Da parte mia abbiamo un'associazione per cui cerchiamo in un certo qual modo anche di venire incontro, non riusciamo a fare tutto perché chiaramente non siamo portati per fare questo tipo di esperienza. Da parte mia io sono stato molto grato, molto contento di questo incontro perché ho visto tante possibilità di risoluzione, tante possibilità di aiuto che erano sconosciute. E mi auguro che possa essere un inizio di un cammino perché questo problema, questo disagio profondo che c'è, questo intreccio fatale tra il gioco d'azzaro, lusura e questo debito a volte enorme che le persone si assumono, possa trovare delle vie di uscite perché altrimenti io so benissimo come molti esiti possono essere anche molto negativi e drammatici.